La Star Cup Marche è una competizione tra progetti imprenditoriali che poi si costituiranno in impresa nel territorio regionale e quindi è aperta a tutti i gruppi di almeno due persone, giovani si spera, che provengano soprattutto dalle quattro università marchigiane, organizzata dall'Università di Camerino e promossa in collaborazione con le altre università marchigiane. Nelle ultime tre edizioni sono andate aumentando le partecipazioni e tutte le quattro università stanno approfondendo molti sforzi per attrarre un maggiore interesse nei confronti di queste iniziative da parte dei nostri laureati, dei nostri dottorati di ricerca, dei nostri assegnisti, in modo tale da aumentare e valorizzare queste nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche e di metterle nel mercato del lavoro per una crescita più sostenibile anche del territorio marchigiano. Ci sarà quindi un sostegno economico e poi un percorso successivo? Assolutamente, verranno individuati i progetti migliori, i progetti migliori in base a una serie di parametri, l'occupabilità, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica, la qualità del team che presenta il progetto. I primi tre classificati riceveranno dei premi il cui ammontare potrà essere aumentato da qui fino alla giornata conclusiva che si terrà ad ottobre, in base anche ai finanziamenti che noi quattro università riusciremo ad attrarre dal mondo delle imprese e degli enti che vorranno finanziare. E naturalmente poi ci saranno dei sostegni, ad esempio noi abbiamo già trovato il sostegno da parte dell'ordine dei commercialisti per implementare il business plan e quindi renderlo più vincente per un'immissione nel mondo del lavoro più sostenibile. Come fa un giovane studente o laureato a capire che la sua strada è quella dell'impresa? Allora, è importante capire che l'idea prima di tutto sia originale e innovativa, ma per costituire un'impresa la parte più importante è proprio quella che è la consapevolezza economica. Proprio per questo la Star Cup Marche nasce per imprese innovative in cui i giovani iniziano ad avere consapevolezza formalizzando l'idea progettuale proprio con un business plan. Per le quattro università è importante stare in rete, lavorare insieme a progetti che sono comuni e Star Cup è uno di questi, dove l'imprenditorialità è al centro delle attività che vengono sviluppate, di questa competizione che dovrebbe portare alla fine alla formazione di attività imprenditoriali embrionali che hanno la possibilità poi di crescere. Spin-off usciti da Unicam di grande successo nel passato? Sì, ce ne sono stati grande successo e non tutti hanno lo stesso successo, perché magari anche l'idea buona iniziale poi non trova, non attecchisce, non riesce a trovare la possibilità di svilupparsi. Però sono situazioni non così frequenti, perché poi alla prova del mercato le idee possono non essere buone, ma l'importante è che ci siano idee che possano essere seminate sul territorio e possono avere la possibilità anche di crescere. Noi quest'anno puntiamo, abbiamo puntato con il business game, che è un po', se vogliamo, l'innesco di questo processo alla sostenibilità. Quindi il tema della sostenibilità declinato in vari settori ha dato origine a dei progetti molto interessanti che sono stati mostrati durante il nostro Career Day. Quindi è importante che l'idea sia attuale, evidente, e che abbia in questo il suo punto di forza. I giovani accolgono con molto entusiasmo queste iniziative, devo dire, quando vengono presentate loro. Quindi direi che anche nelle nuove generazioni questo spirito, questo spirito di imprenditorialità, la capacità quindi di cogliere le opportunità, svilupparle, cercarle di offrire, insomma, collocare sul mercato, c'è assolutamente. Tante sono le iniziative che facciamo e quindi lo riscontriamo proprio quotidianamente, che partecipano molto volentieri e si impegnano tantissimo e tirano fuori delle idee veramente interessanti, veramente originali. Quindi direi che c'è un grosso potenziale e quindi iniziative come queste sono molto importanti perché fanno emergere questo potenziale. Si consolida la collaborazione tutte le università marchigiane, questo è il valore aggiunto? Sì, come ogni anno siamo di nuovo per questo appuntamento, che è un appuntamento importante perché ci dà la possibilità di offrire ai giovani delle opportunità per mettersi in discussione. in relazione a progetti di imprenditorialità che possono dare poi anche sbocchi occupazionali e lavorativi. La forza di questo progetto è quella appunto di essere tutti insieme, i quattro tenei marchigiani coordinati, lavorando insieme per stimolare l'imprenditorialità dei giovani. E questo è certamente un tema di grandissima importanza, dato che siamo in un periodo di forti cambiamenti, nei quali si aprono nuovi settori, se ne chiudono altri, e quindi anche avere capacità di crearsi un lavoro, non solo cercare occupazione da altre parti, rappresenta un percorso da seguire per i giovani per il quale devono essere formati. Quindi in questo progetto c'è anche la componente formativa che permette di instradare appunto i giovani che hanno delle idee da proporre verso una progettualità che poi può portare a realizzare delle imprese vere e proprie. L'occasione di Star Cup è un'occasione preziosissima per tutte le università marchigiane perché possiamo in questo modo creare dei laboratori in cui le competenze trasversali vengono sviluppate, in cui i nostri giovani e le nostre giovani possono pensare anche a una carriera imprenditoriale, comunque conoscere in profondità la cultura di impresa, quindi questo è un arricchimento per tutte le nostre giovani generazioni. Il fatto che all'iniziativa collaborino tutte le università marchigiane è un valore aggiunto perché riusciamo a mettere insieme delle competenze specialistiche. Nel nostro caso, ad esempio, nel caso dell'Università di Macerata, noi spingiamo molto sull'imprenditoria sociale e sulla valorizzazione delle competenze umanistiche in ambito aziendale. Quindi questo è il contributo che noi portiamo a questa iniziativa di cui siamo grati ai nostri partner, in particolare l'Università di Camerino, che ne è capofila.